Non regge alle crisi depressive e si dà fuoco. E' il triste epilogo della storia legata a D.B., il 27enne Brindisino che lo scorso 22 ottobre, dopo un lungo periodo di problematiche psicologiche e fisiche legate all'abuso di droghe e farmaci, si era allontanato dalla sua abitazione in via Lucio a Strabone a Brindisi, allarmando i suoi genitori che si erano rivolti alle forze dell'ordine per denunciarne la scomparsa. Il ritrovamento da parte dei carabinieri di Fondi, poesino in provincia di Latina, quattro giorni dopo, mentre intorno all'1.30 della notte sui binari della stazione minacciava di darsi fuoco. Riportato a casa dei genitori, il 27enne ci ha riprovato a distanza di cinque giorni, questa volta riuscendo nel suo intento e trasformandosi in una torcia umana. Secondo indiscrezioni, il giovane, solo all'interno del suo appartamento, intorno alle 22 di ieri sera, si sarebbe versato addosso la benzina e successivamente si sarebbe incendiato. Ad accorgersi dell'accaduto, i vigini di casa, che richiamati dalle urle e dal fumo, hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ad un'ambulanza del 118. All'arrivo dei soccorsi, il giovane, che era riuscito a spegnere le fiamme da solo, era riverso in terra, cosciente ma completamente ustionato. Trasportato in condizioni gravissime nell'ospedale Perino di Brindisi e ricoverato nel centro grandi ustionati, è stato dichiarato dai medici in prognosi riservata.